Ciao amici e amiche delle parole! Oggi impareremo tantissimi aggettivi! Come? Non sapete cosa sono gli aggettivi? Ve lo spiego io! Gli aggettivi sono parole che si utilizzano per dare informazioni su persone, animali, luoghi o cose. Di solito accompagnano un sostantivo ed esprimono una sua qualità. Ad esempio, nella frase la palla gialla, gialla è l'aggettivo perché ci dice com'è la palla. In questo video conosceremo alcuni aggettivi che descrivono le qualità di diversi animali. Vediamoli insieme! Un topo è piccolo. Piccolo. Ripeti insieme a me. Piccolo. Ma un elefante è grande. Grande. Ripeti insieme a me. Grande. Piccolo. Piccolo. Grande. La tartaruga è lenta. Lenta. Ripeti insieme a me. Lenta. Mentre il leopardo è veloce. Veloce. Ripeti insieme a me. Veloce. Lenta. Veloce. questo serpente è corto. Corto. Ripeti insieme a me. Corto. E questo serpente è lungo. Lungo. Ripeti insieme a me. Lungo. Corto. Lungo. Questo cane è pulito. Pulito. Ripeti insieme a me. Pulito. Sporco. Ripeti insieme a me. Sporco. Pulito. Sporco. questo gatto è magro. Magro. Ripeti insieme a me. Magro. Mentre questo gatto è grasso. grasso. Ripeti insieme a me. Grasso. Magro. Grasso. Abbiamo imparato moltissimi aggettivi con questi animali. Li ripassiamo. Piccolo. Grande. Lenta. Veloce. Corto. lungo. Lungo. Pulito. Lungo. Pulito. Sporco. Magro. grasso. Grasso. Fantastico! Gli aggettivi sono super divertenti! In questo video ne abbiamo imparati molti con alcuni animali. Nel prossimo ne impareremo altri, ma questa volta con le persone. Non perdertelo! Quante cose abbiamo imparato in un solo video? Sai che ne abbiamo tanti altri? Immagina tutto quello che puoi imparare! Iscriviti al canale educativo di Smile & Learn per imparare mentre ti diverti!